Tanto tonò che piove e così come le previsioni meteo hanno annunciato in questi giorni è arrivato il violento acquazzone in tutta la Capitanata, colpendo in modo diverso le aree interne e quelle esterne. Da qualche ora infatti la provincia di Foggia è interessata ad acquazzoni e leggeri allagamenti, con disagi anche se lievi per gli automobilisti e le abitazioni a piano terra. La pioggia che fin da ieri cade sulla Capitanata questa mattina ha allagato alcune strade di San Giovanni Rotondo, rendendo il manto stradale difficilmente percorribile. In pochi secondi le strade sono diventate fiume in piena, così come a Monte Sant'Angelo nelle ore scorse e anche lungo la strada statale 89 che conduce a Foggia. A peggiorare la situazione climatica anche il forte vento che per le prossime ore fa scattare un'allerta gialla su tutta la provincia. Una situazione climatica che preoccupa soprattutto gli agricoltori, viste le ultime condizioni del settore ormai completamente in ginocchio. Intanto netto il calo delle temperature che oscilla tra i 27 e i 28 gradi e che per il momento ha spazzato via il caldo africano e l'afa delle ultime settimane. Una temperatura e un clima più fresco che persisteranno anche nei prossimi giorni, con piogge sparse e con la colonnina di mercurio che non supererà i 30 gradi. Grazie. Grazie a tutti